buongiorno a tutti oggi nella nostra rubrica benessere e sana alimentazione vi daremo alcuni consigli per preparare una bevanda salutare stagionale depurativa e diuretica a base di ribes questi frutti sono ricchissimi di vitamina c utile a mantenere elastica la nostra pelle e di antocianine quindi favoriscono anche una buona vascolarizzazione dei tessuti oggi vediamo che cosa ci prepara danilo con questo ingrediente ciao evelina allora oggi vi preparo un mojito tonica analcolico con ribes e grana padano dop riserva la prima cosa tagliamo dei lime a piccoli cubetti se non trovate i lime vanno bene anche dei limoni cambierà leggermente poi il gusto della preparazione e non scartiamo nulla se non eventuali semi ecco con lime danilo hai aggiunto ulteriore vitamina c quindi questa ricetta è sicuramente adatta a questa stagione e soprattutto a noi donne un pochino di zucchero di canna ma potete diminuire o aumentarla dipende se vi piace questa bevanda più secca o leggermente più dolciastra aggiungiamo poi dei ribes una solo tanto una parte perché poi gli altri lasceremo interi ecco lo zucchero l'hai potuto aggiungere perché i ribes sono poveri sia di calorie che di zuccheri poi abbondante menta la spezzettiamo la tagliamo anche grossolanamente e l'aggiungiamo a tutti gli altri ingredienti a questo punto testiamo come per un qualsiasi altro cocktail ecco la menta è un'altra regina di questa stagione danilo perché è rinfrescante la possiamo utilizzare non solo come infuso o altro ma anche come vediamo nel in queste preparazioni o addirittura aggiungerla nelle insalate acqua tonica andiamo a miscelare molto bene a questo punto la bevanda è pronta taglio dei cubi di grana padano dop riserva li vado a infilare su uno spiedino a questo punto andiamo a versare nei bicchieri questa bevanda a base di lime menta e ribes bravo danilo hai fatto un ottimo abbinamento perché il grana padano di op fornisce importanti vitamine come quelle del gruppo b la vitamina a e soprattutto la vitamina d che in questa stagione è molto importante perché ci esponiamo al sole alla luce e questa vitamina favorisce un buon assorbimento del calcio che è contenuto nello stesso formaggio a te evelina grazie mojito tonica analcolico con ribes e grana padano dop riserva buon ferragosto a tutti